Umberto da Ponte dopo la fine del matrimonio con Gwendalina Tavassi ha già ritrovato l'amore. L'imprenditore 37enne dopo la rottura con l'ex Jeffina non ha mai nascosto il desiderio di ricomporre il matrimonio. Adesso però le cose sembrano cambiate. Mentre Gwendalina ha ufficializzato la sua nuova relazione con Federico Perna, anche Umberto sembra aver voltato pagina. Nelle ultime ore da Ponte ha lanciato dei segnali nelle sue stories. Umberto ha postato un selfie in un locale romano con la scritta Perché mi guardi. Lo stesso identico selfie compare nelle stories della bella Clea Marcu, modella albanese protagonista dell'ultima edizione di Sex on the Beach. Stesso tavolo, stesso ombrellone e stessa frase per la bella more. Una coincidenza che ha fatto subito incuriosire i followers di entrambi. Mentre la Tavassi era amico nos con il nuovo compagno, da Ponte ha trascorso le vacanze in Sardegna con i figli Chloe e Salvatore nati dal matrimonio con l'ex Jeffina. Adesso però sembrerebbe pronto ad una nuova relazione.